eccoci qua ragazzi finalmente siamo tornati sul mio canale allora oggi siamo qua come potete vedere con Tomb Raider Definitive Edition per PC allora ho tagliato i primi 5 minuti perché comunque sono noiosi ecco i primi 5 minuti sono veramente noiosi ok sicuramente allora vi avviso che non ho come ripeto un PC da gaming banalissimo portatile quindi sicuramente in alcuni momenti si bloccherà ma va bene noi giochiamo lo stesso tanto comunque è sempre gnocca l'hanno fatta cerca altri superi ok andiamoli qua piano eh mi raccomando ok piano tranquilla no piano oddio secondo me se cade da qua ti fai un poco poco male ok bestia benissima ok proseguiamo qua bisogna zompare brava ci mette il pull in pace intanto la e quando le dico no posso guardare no oh premiamo X per agrappareci Vai, 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 destra, destra, sali, vai, ok, ls qui a lanciati, perfetto, x, ok, quanto sfigata in questo episodio, ecco, guarda un po' mano, è sfigata in questo episodio, c'è qualcosa che ci può tornare utile qua, no, veramente, o qua, piano, 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 perfetto, grande, ma se si increde ti fa un baffo a te, eh, oddio, non voglio spoilerarvi niente ragazzi, quindi lascio tutto con me, vediamo se ci faccio qualcosa di utile, no, zomba, x, 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 no, no, ho schiacciato, ho schiacciato, ah niente, allora vuol dire che era così la scena, putti, strenuzzo, ma che mi fai prendere uno spavento? e ci sarò è un carico, ma che mi fai prendere, quali? ve five dispiose la scena di nuovo la scena è essere so vera, qui si staって figa la scena mi gughe E un secondo fuori era sporca Dai prova non c'è nessuno è una scensola se sbagli sembrava strano mi chiamerò per farmi il barbè qui a casa Ed ecco la nostra ambiziosa archeologa Lara Croft nel suo habitat naturale è in cerca del regno perduto di Yamatai terra natale della leggendaria Emiko regina del sole e mia illustre antenata Sam piantala tesoro lo so cerco solo di sdrammatizzare guardiamo che con la telecamera registra 1080i mica lo sento ma non so se mi daranno retta o se dovrebbero farlo Lara tu ne sai più di chiunque altro sul serio e non lo dico solo per confortarti io credo in te e anche Roth sei in gamba ora facciamo una pausa ok ok e Sam dai su su che abbiamo da fare qua smesso di piondo perfetto però c'è un arco le frecce guardate già imbuscate lì dietro troppe frecce mi stai dando come mai oh cocio posso farcela eccolo tranquillo è morto non ti fa niente ecco lungo improvvisiamo nuova trattacola vediamo un po' ricorda gli insegnamenti di Roth tecnica e stile non contano nulla senza concentrazione concentrazione è questo il segreto per usare qualsiasi arma ho fame devo mangiare qualcosa eh ho capito ma cosa c'è è successo di nuovo niente andiamo qua sopra ma deve cercare del cibo altre frecce eccolo eccolo lì ragazzi eccolo lì ho sentito un altro è scappato eh ma no ma dai gli ho fatto un headshot dio buono com'è possibile non andiamo mica d'accordo dove è andato adesso ma qual è un altro guarda c'è guarda guardalo che ha la freccia nel collo guardalo oh la abbiamo matta niente arco sono pieno non mi piace uccidere gli animali però devo sopravvivere perdonaci perdonami e per una giusta causa siccome c'è sta crisi non c'è sordi non c'è l'uomo 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 mi ricordo un po' assassin cred con con se non sbaglio No, era l'altro Boh, me ricordo Ragazzi, io ve lo salto e ho detto Non vi spoilero niente Quindi, quindi Poi mi fa mente locale Ma non ti blocca E la volta ci resta per ritrovare sempre la via di casa Non ti preoccupare Eh, qui qua, qui qua, tranquillo Eccolo qua Hop, valla Via Abilità, investi SP nel menu abilità per potenziare le tue abilità Abilità per potenziare le tue abilità Continuo Abbiamo un punto Istinto animale L'istinto di sopravvivenza evidenzia cibo e selvaggina nei paraggi Questo Adattamento Ottieni ricompense aggiuntive quando depredi i cadavere degli animali e le scorte di cibo Questo Recupero avanzato Esamina accuratamente casse e altri contenitori per trovare materiali aggiuntivi Collezionista ad ossa Controlla attentamente i cadaveri degli animali per ottenere materiali aggiuntivi Recupero frecce Gli arcieri più abili possono recuperare le frecce dei corpi nemici Allora io voglio questo Indietro Indietro Indre Indre Qui con Rod Roth, capitano dell'Eldorance Siamo naufragati su un'isola nel triangolo del Drey Rod Qua Sei vivo Calma, piccola, calma Stai bene? Tutto bene, tutto bene Ero sulla spiaggia Poi mi sono ritrovati in una caverna C'era, c'era un pazzo, Rod E ho visto un cadavere Oh Cristo Ho visto un cadavere Quanti cacchio ne hai ammazzati nella tua carriera di Tom Raiderista E che cacchio Lara, ascoltami Ho trasmesso un SOS prima di abbandonare l'Eldorance Speriamo che qualcuno lo riceva Ho parlato con gli altri Ci raduniamo qui da me Va bene Ti prego, vieni a prendermi Devo restare qui Puoi farcela, Lara Mi ricordi la scalata dello Snowden? Il segreto è rendersi conto Che si può andare soltanto avanti Sempre avanti Sali in quota attraversando le antiche rovine Ritieni la ragione Va bene Ok Perfetto Esci dalla foresta Devo andare a infatti Musica La torcia Potrei passare di qua Oh yeah Merda Merda Cosa sono queste incisioni? Hmm Dai su Non ci ci schiavi Ah non lo so Deve uscire dalla foresta Ecco questo Quindi calma Oddio È una follia Ma brucia tutto Qui? Questa maschera Questa maschera Nora presenta una donna Vabbè Oh ma Mi serve qualcosa per forzare Strumento mancante Strumento mancante però Eh Oh no Eh dai Che sarà ormai Sì Ma se è forte Vai Perfetto Qua Ed ecco che se blocca Come vi dicevo Ragazzi Io voglio registrare lo stesso Ma non così però eh Non così Così mi fai sclerare Ok Qua c'è una porta C'è un asilo Ah ecco ok Questa cosa No Aspetta, glielo chiedi. Sam. Vanno a seguire il sentiero. È una bella scarpinata. Hai sentito? Sì. Sì. Abbiamo un fuoco. Seguite il fumo. Arriviamo. Lara, sei viva? Sam. Grazie al cielo. Sorpresa. Tranquilla, è dei nostri. Non volevo spaventarti. Qui abbiamo tutti i nervi a fior di pelle. Abbiamo parlato con gli altri. Stanno arrivando. Visto? Mi ha fasciato il piede. È il minimo che potessi fare. Scusa, dimenticavo. Io sono Mattias. Non tanto, io... Faccio blizzero. La mano a diretto di non toccare le mani sconosciute. Diciamo che la vita da naufrago non è esattamente il mio forte. Sei uno straccio, Lara. Sia... Il genere. Bastardi, ve ne approfittate. Dov'è l'altro? Dov'è? Dov'è? Dov'è l'altro? Ok. Di qua! Reyes! Ho trovato Lara! Attenta! Felice di rivederti tesoro. Ah, non sapete che soviene. Sam è con voi. Pensavo fosse con te. Era qui, con un certo Mattias. Poi ho come perso i sensi. Al mio risveglio erano spariti. È un postaccio per le ragazzine. È un po' probabil. Ehi, 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 e Rob? Ok, dividiamoci. Uno di noi raggiungerò qui insieme a Lara. Gli altri si mettono a cercare Sam. Vado io con lei. No, no, vado io. Sai usare queste? Beh, sono un po' arrugginito, ma... Ma ce la farò. Andate da Roth. Noi troveremo Sam e quel Mattias. Sei sicura di farci? Sì. Magari prima mi riposerò qualche minuto. Diviarsi che fai dicono altro, va. No, eh, fai pure. Io vado... Ecco, tu ti dai mano. Ok. Niente male. Perfetto ragazzi, anche per oggi terminiamo qua. Ci rivediamo poi domani o massimo dopo domani col secondo video su Tomb Raider Definitive Edition. Ciao. 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 Ciao.